Un amico cuore, un amico cuore, un'attoria di pubblico, arrivare a un'attoria di pubblico. Questa lo vediamo. Un'attoria di pubblico. Un'attoria di pubblico. 180 ottimi, bello. ASD, effettivamente modazione con le cinesi. E' un piccolo. E' un piccolo. Così, senza aria, senza arrivare in piedi. Io no. Rispi a fare la cina. Non da me la bel colino a me, perché non la uso. No, fermi, fermi. Perché sei ottimo? Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. vai. a tutti. brava. 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 a tutti. dentro. 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 bravo. vorrei. andiamo. a tutti. . 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 bravo. 179. Ragazzo. Ragazzo. Ciao bello. Ciao. Occhio. 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 191. Bravissimo. Bravo. Bravo. Ottimo. Primo. Secondo. 191. Ragazzo. Se ti puoi spostare. 148. Bravissimo. Bravo. Bravo. Ottimo. Primo. Primo. Secondo. E terzo. Dicevo se vuole. Se ti interessa. Oh. Ah. Eccolo. uno. Allora. Allora. Uno. Sette. Sedicesimo. Bravissimo. Uno. Il 203, 203, 18, bravissimo, 180, 18, 19, e potrete essere la prima donna, 190 e 192, bravi, 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 non scappare che dopo c'è il premio, vuoi attestare e vai via, brava, bravi, 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 ecco, t'aspetto, comunque la Camilla è super, è super la Camilla, bravissima difesa, brava, vado a casa plenica del Mischi, rifanzi col pomone, bravissima, 165, 172 parla 10, il 172 è il 22esimo, bravissimo, calotta, devo dire calotta, ricordatelo, primo in fretta c'è una calotta tecnica, 183, anche lui, 23esimo, anche lui c'è sempre, bravissimo, 23esimo, bravo, Grazie. 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 atroana. Grazie. Grazie. edenza il 3-1. bla-2 fairly, il 113. ecco che arriva 146 bravissimo è anche l'epa che va tanto però non arriva 141 perfetto bravo vai 223 brava brava 226 brava 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 202 numero numero 203 si ma se prendi il ferro a cagliolo così vai 218 a 216 182 e 170 perfetto quinta donna seguita bravissima brava 2 fai la foto vai facciamo la famiglia più volosa vai bravi 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 brava aspetta aspetta un secondo perché in teoria non manca tanto 199 eh sulla 10 vai hai messo 199 sulla 10 197 257 e 258 bravi fungo ci vediamo al primo bravi 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 bravissima ci rivolate bene vedi che abbiamo fatto questo 170 la prima donna non attesa perfetto non scappare perché c'è il premio rivoluzione non è strano non è strano no via 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 45esimo, bravissimo bravi brava Katia 2-5-1, grazie a Mario vai Katia brava brava ed ecco che arriva la sorella Camilla la aspettiamo tutti sotto il mondo guardate che è il gruppo io, 5-8 vai prima, voglio 5 bravissima, voglio 5 brava eh brava eh 211 per la 10 bravissimo numero 30 vai bravo per la 10-200 che è il cinquantesimo che è il cinquantesimo che è il cinquantesimo brava brava ma ti l'ha fatta il 26 e 4 attenzione arriva il 2-5 un gran ciclista che vedo anche sul fondo dei 10 grande 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 lo aspettiamo no vabbè no vabbè non ci fanno sulla 10 e poi va bene anche la 5 145 sulla 10 bravissimo vai voglio 5 voglio 5 dai 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 vai vai bravi bravi cilindra 140 sulla 10 vinda bravi 140 sulla 10 marco pressano 194 vinda devi ascoltare me perché se no adesso è un casino te lo dico bravo 2-4-6 e 1-6-4 bravissimi bravo bravi sì dopo guardiamo e arrivo non facciamo sti casini perché è un casino me lo assicuro con tutto il cuore dopo le guardiamo bravo 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 ok ok no no gli dico all'andrea rizzo dove è andrea rizzo dove sei andrea perché questo è la prova che lascia andare bravo 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 bravi bravi ecco la sposina la sposina bravo come va bravo 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 allora ragazzi mi avvisano che se volete si può andare a prendere l'assaggio di salamella all'ingresso del tendone a tutti i partecipanti del servizio bravi un assaggio di salamella gratuito per tutti quelli che sono stati iscritti sotto il tendone dai perché noi io non posso fare più più di questo non posso fare dai salamella eccoci qua bravi subito aspettavo se lo vuoi distribuirle grazie bravi 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 vai ecco la scusa numero scusa grazie vai brava come dicevo mi ricordo ci vuole andare a faccio salamella sotto il tendone mi raccomando una sola perché sono per la più partecipanti ma io la mangio anch'io allora Luisa se vuole andare a assaggiare la salamella puoi andare Luisa c'è la salamella adesso se vuole andare assaggio eh sono una cosetta così bravi 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 mi taglio i fogli dico facciamoli più oh no salamella bollo lo mangia nessuno che tu qualche voglia la salamella allora porca si bravi ma certo che devi mangiare e lei ha che mi tagli i fogli la salamella bravi bravi salamella sotto il tendone inclusa con la tua vai eee via 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 che c'è Francesco foto 200 sta arrivando bravi ci è arrivato anche Scherz quindi siamo a posto grazie bravi Scherz 222 bravi 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 certo sto facendo il video ma ne ho fatte almeno una ventina grazie grazie vai bravi arriva anche la Clara la in posto c'è la Clara quindi passeggiata c'è anche per un picconella sotto il tendone inclusa nel prezzo di iscrizione bene no ma la salamella si io mi affronterei perché le foglie sono ancora e quando sono finito sono finito quindi potete andare pure bravi tanto tanto non la vuoi e tu puoi andare bravi no 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 sono l'ottantesimo bravi perfetto siamo arrivati bravi ora c'è l'ottantotto l'ho visto ok vai bravi 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 ok tovevamo fare la porata tu Nadia che fai tu sei buongiorno salamella se volete c'è solo il tendone a tutti gli iscritti via se non poi finiscono si chiama pressare dopo il tuo fratello ha detto Ale è andato prima a Marco è bello detto e vai 210 dimmi vai va bene vai grande 1.02 ole ole quanta quanta quanto si è arriva il nostro Giazza grande appena sopra la ruola grande Giazza numero 6 14 la riva in mezzo ragazzi siamo qui 84 perfetto posso 7 8 70 9 16 chilometri buona cosa vai bravi buongiorno per forse come era tutto a posto ma hai faggato no? non tantissimo buona buona faggono ce la faggono bravi abbiamo un primo desino il settimo il è detto scusa tu hai visto il adesso lo lasciamo tutto il giorno ole allora intanto volevo avvisare i primi 30 adesso ti chiamerò io il numero di stile le calotte bravi bravi è finita ed ecco che arriva la porta a con con servizio dell'acqua servizio acqua bravi c'è notate chi lavora uno che ha fatto di portare l'acqua gli altri due che lavora volevo dire però Fabio c'è solo quella maglietta inguardabile ma va bene bella ora è bella bella rosa non è che no prima era blu quella maglia la lavata e si vede fuori rosa c'è c'è così prebella eh grazie 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 Grazie. 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 No, è sempre con le rughe, no? Eccolo qua, il bar. Grazie. Grazie. Bravo Vice, complimenti. Io non ho fatto di questo. Io sono venuto. Eh no, il nostro Vice Sindaco partecipa sempre, eh? Eh sì, eh? Grazie. 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 allora il primo arrivato assoluto bravo bravissimo allora intattiamo così ce lo sappiamo il 191 benissimo no la S ne ho 4-5 lasciamola ricorda lo so però scusa abbiamo fatto tante N ho 4-L e 3-S bravo poi vediamo se ne ho quell'altro 148 eccolo qui perfetto anche lui senza scelta anche io 196 Morandi eccolo lì perfetto ok bene continui grazie a te no io Alberto di far vedere la maglietta quando la prendo ah ok ok scusa numero 215 Sangaletti ok eccolo qua mi fai vedere ci fa la foto bravo grazie ok 193 Rienzi eccolo qua perfetto Rienzo fai vedere la maglietta che ci fa la foto su lì bravo ASD Nervianese bene arrivano fino a Nerviano bravissimo bravo 209 Samuele Samu secondo non attese bravo ottimo grazie 178 Raimondi Raimondi allora la parcheggiamo bravo bravo i moldi non c'è eh però devi scrivere il colpo no non c'era i moldi poi abbiamo 170 no scusa si 171 eccolo qui perfetto bravo bravo 202 eccolo qui perfetto bravo 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 vai la maglietta falla vedere grazie mai grazie 210 abbiamo saltato ecco scusa bravo bravi 305 ok prendiamo appena pure il numero bravissimo ottimo 142 una L bravo bravo alberto 229 a Gucci dov'è allora se non c'era lui lo parcheggiamo perché immagino si ripartava 187 187 perfetto a te 4 mila vai 203 203 lui ti ha una bella L perfetto bravo 180 192 la prima donna bravissima saluta brava brava lei ti ha una S lei ti ha una S giusto mi sembra vabbè preserviamo poi magari le cambiamo grazie 172 no lui ti ha una L e non lo mancai forziamo bravo va che bella foto grazie vai 183 adesso cosa abbiamo è un massimo fregandatore della nostra salunata quotidiana lo vedo bravo grazie 197 197 197 che una ragazza bravissima brava grazie ragazzi qua perfetto la vostra qua che c'è il premio non scattarmi brava 186 186 L e lo so no faccio così aspetta niente a perdere fino a S se la puoi stretta magari perché qualcuno mi ha chiesto una S poi parlate in fronte di voi chi vuole cambiare perché intanto mi devo subire quella che ho bravo 165 eccolo qua lui gli dà una L che va benissimo ci sarà un pieno grande grazie fai pure la foto e queste sono delle calotte tecniche che non vi dico cosa mi sono costate ma siamo contenti di poterle offrire bravo in parte Avis e in parte questo generale assicurazioni che vedete c'è uno sponsor in età di età 181 ok ecco lui adesso c'ha una S se volessi cambiare con qualche M qualcuno che voleva S mettetevi d'accordo con lui per me non è un problema problema vostro grazie 139 139 139 non c'è l'hai trovato un'altra quella che c'è la pesa l'altra ecco qua allora intanto ecco qua Alberto è arrivato la M vai vai ah no no c'è la S se vuoi che carina ma è no ok adesso non ci capisco più eh no 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 capo 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 che caga risolio guarda la maglietta su metti la maglietta su c'è un più terreno Fiorese c'è Fiorese andiamo avanti 201 che sarebbe un'altra ragazza brava ale 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 ok se c'è qualcuno che vuole non ce l'ha perfetto aspetta 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 devo ricordare comunque siccome abbiamo abbiamo sei carotte se qualcuno volesse queste le altre le che gli diamo se volete venite che vi chiedo come potete organizzare l'ultima carotta che è la nostra chiusura è il nostro Agostino Bosio che senza numero lo chiama così e adesso si becca una M M grazie Ago bravo purtroppo sono i primi tenti all'ufficiale come dicevo se qualcuno volesse comprare ne abbiamo sei a disposizione ok adesso bravi ci prepariamo un attimo per la premiazione visto che siamo già qui tutti lascerai se per favore libero questo spazio del podio perché chiaramente chiameremo i vari premiati e di conseguenza sarà lo spazio da utilizzare ci dovete spostare il pacchio è spostato però perfetto bravo gentile sindaco buongiorno grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sole ci ha premiato per fortuna quest'oggi. Vi ricordo soltanto che AVIS vuol dire associazione volontari italiana sangue, lo saprete. Sono qui a chiedergli veramente di farci un pensiero. Chi può, chi è giovane, si può donare fino a 60 anni, si può entrare in associazione fino a 60, mi correggo, e si può donare fino a 70. Perché adesso oramai siamo sempre più in salute, quindi potendo farlo perché no, io dico sempre. Pensateci perché il bisogno di sangue è fondamentale. Il sangue artificiale non c'è, non si può comprare in farmacia in una scatola e quindi abbiamo bisogno di darlo. Quindi il nostro dare il braccio, anche io sono donatrice, il nostro dare il braccio è proprio il dono di sé che si fa e si fa per gli altri. Io non so a chi andrà il mio sangue, ma so di certo che andrà qualcuno che ne ha bisogno. Quindi vi chiedo, perché fa bisogno di sangue, per ora siamo quasi autosufficienti in Lombardia, però c'è sempre bisogno di ricambio generazionale sicuramente. E non pensate ciò a 40 anni non posso, ciò a 50 non posso. Fino a 60 si può essere in salute, avere uno stile di vita sano, avere un controllo anche degli esami periodici che non è male. Quindi una iscrizione l'ho già presa stamattina, vorrei riceverne altre. Grazie. Brava, grazie. Brava. Grazie a tutti, sono il vice sindaco di Donate, voglio collegarmi a quello carato Anna, perché quando è nata mia figlia abbiamo dovuto fare una trasfusione sul doberanata. Io sono diventato donatore, mia figlia appena diventata donatrice, ha completato i 18 anni, diventata donatrice, quindi chi può benvenga. E voglio fare un'occasione per ringraziare le associazioni, il personale che ha aiutato a gestire la corsa, ha bisogno di questa manifestazione che piace a tutti. Grazie della partecipazione, la prossima. Bravo, grazie. Grazie a te Renzo, grazie mille. E ringrazio anche Clara che è qua dietro. Grazie per il sostegno che l'amministrazione comunale ci dà tutti gli anni, assolutamente. Facciamo dire due parole. Grazie, Clara, ti tocca. No, non è. Non mi sembrava giusto che chi aveva partecipato e chi è donatore avesse la parola rispetto a me. Io ho provato a diventare donatrice ma all'età di 52 anni, ma non l'ho potuto, non sono stata considerata idonea. Basta il pensiero, basta il pensiero per ora. Ecco, ripeto, come dice Anna, il sangue non si crea, il sangue è una cosa che si dona, è importante. Ringrazio tutti voi per aver partecipato perché penso che siete sensibili a questo argomento e vi aspetto numerosi, anzi forse ancora di più per l'anno prossimo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. 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 Ok, allora, visto che comunque siamo le 11, abbiamo tenuto tutti i tempi, come soltanto ringraziamo tutti che abbiamo fatto prima, adesso iniziamo a fare le premiazioni così dopo vi libero e vi lascio andare. Partiamo con le premiazioni delle elementari, quindi il terzo classificato delle elementari e Malorgio Boa, lo spero l'ha detto bene, lo mettiamo qua, il gradino numero 7, bravissimo, bello 5, questa maglietta qua, così così, bene dai, la notta, lì, attenzione c'è quello scritto da 10 anni perché veramente, ok, ok. se ti sposti, no, è lui, la maglietta, fatti vedere, fatti, ok, adesso il secondo classificato delle elementari, Restelli Greta, creativo numero 2, brava, allora, che classe fai, ma? Prima elementare, ma sai quanti anni prenderai queste calotte? il prossimo modo che mi ha del premio, ho già capito? Certo. Sì, ma adesso vi devo dire queste cose, che devo fare effettuato. Prima che classe fai? Quante. Parte elementare, bravissima. Adesso abbiamo il primo classificato delle elementari, Carrano Luceno. Posso immaginare, posso immaginare, posso immaginare che classe fai, parte elementare, quindi c'è ancora il prossimo anno da poter sfruttare questa categoria. Sì. Devo cadere il premio. Brogio. La canotta. Bravo, dietro, dietro, bravo. Siamo qua. Ok. Siamo qua, che è il nostro fotografico ufficiale, ci farà tutte le foto. Ma ricordatemi, si va sul sito, sei tu. Sei tu. Sei tu. Su punto it, ci sono tutte le foto della Salonaccia, tutti i video che lui ha fatto della premiazione, della partenza. Ci vuole un po' di tempo, ma vi assicuro che è bellissimo. Qualità eccessa. Ci siamo? Grazie, Ambrogio. Grazie, Francesco. Andiamo avanti, passiamo alle scuole medie. Sì, terza classificato, testa, gioia e lei. Bravissimo. Casse. Bravissimo. Quindi il prossimo anno sei fuori di categoria, adesso sei già fortunato. Prova, intanto deve, sei un po' tirato. Prova a dire, dai. Dai, che il prossimo anno arrivo primo. Prima. Va bene? Bravo. Secondo classificato. Abbiamo la nostra. Riccati Camilla, seconda classificata. Brava. 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 Bravi, bravi. Lo facciamo per chi corre il professionismo. ma anche per questi ragazzi qua. Questo sia piacere verli qua. Andiamo a fare tutti gli anni. Grazie a tutti, ragazzi. Bravi. Allora, adesso facciamo il primo particolare. Chiaramente per noi valoroso, il primo avvisino che è arrivato nella classifica sempre da 10 km, perché adesso abbiamo premato la 5, ma da adesso in avanti premiamo la 10. Il primo avvisino è Rienzo Massimiliano. Adesso l'ho detto giusto. Dov'è? Giusto? Giusto. C'è? No, Rienzo. Rienzo. Bravo. Va bene lì. Lui è il primo avvisino, quindi per noi tanto di cappello come si può dire è chapeau. Bravo. Ok, adesso abbiamo un altro, un'altra pietra miliare di Rolandi Cerpino, il nostro primo avvisino, che nonché anche lui farà parte del palco, sta ferma, le varie, direttive. Alberto Rolandi Cerpino. Ehi. Ehi. bravo. Ho fatto anche il preparatore per la staffetta, per gli elementari, se ne è per il palio, perché ho soppassionato che non so se ne è capito la corsa. Bravo. Bravo. Bravo, bravi. Grazie. Ok, adesso facciamo la prima donna a una chiese che mi diceva... vero, è una foto. E' una foto. E' una foto. E' un'altra parte. E' una foto che mi diceva. Ma non è quella, e' una foto che mi diceva. E' una foto che mi diceva. bravi brava ok abbiamo anche questo piccolo premio che è il gruppo più numeroso il basket anche a c'è Pino basket per la città e Pino se non mi vedono il premiale che la dà anche quel Matteo anche il suo cuore per la squadra delle linee ecco Matteo anzi la devo parlare a lui per candidare l'avviso sul basket della chiesa che quest'anno sta facendo il tempo domenica prossima alle ore 18 e 30 guardate qua i nostri under 18 targati con maglietta Avis giocano il titolo provinciale di certo 30 ma amanti che aspettiamo numerosi trombette, casino bravi 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 allora adesso prendiamo le prime tre donne assolute cioè va bene vai allora terza donne assolute per le 10 piloti bravi 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 ehi ehi poi la seconda donne assoluta è erba luana seconda assoluta erba eccola a lei premia sindaco grazie perfetto adesso un bel applauso la prima bella assoluta che è lago Lorena brava brava Lorena brava Lorena brava bravi bravissime non mi ricordo più il tempo mi pare che la prima è arrivata la decima assoluta non mi fate errato ventesima grazie bravissime bravi per non rimanere andiamo avanti e chiudiamo con i top 3 uomini terzo classificato Trumana Paolo eccolo qua perfetto metà buona sta notta bellissima sta notta penso che sia penso sia va bene ok bene grande fico noi ci saltiamo un po' va bene quando le faccio non è che il frigo va di cuore no ok adesso chiamiamo il secondo uomo assoluto a 10 km e non mi ricordo bene il primo mi ricordo che dopo mi ha fatto un peso qualche secondo dopo perché lo chiederò è Seminati Steven bravo Steven vai Steve perfetto ok adesso number one come il pacco adesso invece che abbiamo visto che anche l'anno scorso era arrivato il primo e quest'anno si è riposentato quindi io come solito ringrazio sempre questi ragazzi che ci ha messo se non mi sbaglio corregge mi si sbaglio 36 minuti è qualcosa comunque secondo me è sempre la sua presenza è sempre gradita l'anno scorso decettino partendo per Mirko non lo scordi bravo bravo Mirko number one bravo bravi bravi ma chi è questo qua ma chi è bravi bravi bravo bravo Mirko grazie a particolare alla nostra Ambrojo il cervello dell'organizzazione grazie Ambrojo bravo 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 Cesare bravo 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.